Tornano protagonisti vecchie conoscenze del GT Open in occasione della seconda sessione di prove ufficiali andata in scena a Monza, sesto round della stagione 2017, terza posizione per l'inquadrata Ferrari di Michel Mac, la 488 di Spirit of Race che ha chiuso con il miglior tempo in 1.46693, però a 452 millesimi a dividerla dalla vetta, tiratissima invece la lotta per la pole position, soli 36 millesimi hanno distaccato l'inquadrato Com Ledogar, tornato in grandissima forma dopo l'operazione di appendicite che l'ha tenuto fermo nelle settimane centrali di settembre, il francese era stato il leader provvisorio della qualifica nelle prime battute, 36 millesimi che appunto hanno separato Ledogar ieri sul podio della classe Proama dall'inquadrata vettura di Augusto Farfus, autore della pole position 1.46241, il tempo stratosferico alla media di 196 km. Ferrari che ha dato la possibilità alla BMW M6 del team Tio Martin di partire davanti a tutti, dunque Farfus arriva dal DTM e si impone anche nel GT Open, un risultato di grandissimo spessore che mette appunto in prima fila due piloti Platinum, Farfus e Ledogar davanti a Mac, Erueda più attardato, quinto Giovanni Venturini leader di campionato, solo sesta la Lamborghini Gallardo vincitrice di gara 1 con Seb Morris, chiudono la top time Giammaria, Costa, Griffin, Lanceri ed Edoardo Liberati.